Al via il progetto c'era una volta un bosco di antenne. Un viaggio tra le antenne abruzzesi, viste dalla prospettiva dei minori, ragazzi e ragazze, dalle scuole elementari ai licei, che descrive il panorama variegato e complesso dell'emittenza locale, ma consente anche di allargare lo sguardo, più in generale, al rapporto fra i ragazzi, la televisione e quei nuovi media, che sembrano essere pronti a sostituirla. È un format televisivo dedicato interamente ai minori, con uno sguardo positivo sulle regole, il codice di autorreglementazione ai media e minori, il comitato media e minori, le regole che ci sono vanno rispettate, ma noi vogliamo anche far raccogliere le opportunità che arrivano dalla rete, dalle nuove tecnologie, quindi uno sguardo assolutamente positivo e innovativo. Devo dire grazie alle tante emittenti televisive abruzzesi, tutte che hanno aderito a questo progetto, sono protagonisti anche loro con tanti giornalisti e direttori, ma soprattutto hanno voluto mandare in onda gratuitamente queste cinque puntate che oggi presentiamo ufficialmente in Abruzzo grazie agli studenti dell'Università di Teramo. Un progetto sviluppato dal Corecom Abruzzo e dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo che ha coinvolto per tre anni consecutivi molti studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione, ma anche studenti Erasmus. Abbiamo creato questo formodello per ripartire dalle regole, per ovviamente far conoscere quelle che sono le regole al sistema televisivo, ma anche ai genitori, alle famiglie, alle scuole, alle università e ai stessi cittadini che usufruiscono poi del mezzo televisivo, quindi conoscere le regole ma avere un approccio positivo in maniera assolutamente innovativa grazie alle domande tecnologie e alla televisione che ancora conserva un forte appeal verso i cittadini. Lo stile è ibrido tra il reportage e il documentario, quattro puntate di durata variabile tra i 10 e i 15 minuti con un format adatto sia alla trasmissione che alla pubblicazione sul web. La puntata iniziale è dedicata a uno sguardo generale al Bosco di Antenne. Nella seconda, dal titolo Una generazione digitale, si analizzano i nuovi media. Nella terza, Eroi della domenica, lo sport. E nella quarta, Il mondo nel cortile di casa. L'informazione.